bella raga oggi usciamo con la pioggia a fare le ripetute che bello che bel tempo bella raga benvenuti in questo nuovo video oggi sereno ti va a fare le ripetute andiamo in valle vediamo un po come il terreno vediamo se c'è il lago o meno abbiamo abonato la strada e ora entriamo inciclabile scendiamo giù che non avrà per arrivare nessuno ok perfetto prima salitella di giornata oggi approfittiamo anche da vedere il livello l'ora che come avete visto in questi giorni non so quando pubblicho questo video a tipo monza che vicino a me è tutto allagato e vicino a me si era formato un lago nella mia città perché il fiume sta ripato in un bosco puoi mettere il video ora c'è mia un giù c'iclare e andiamo proprio al lato del fiume perché noi ci vogliamo molto bene qua tra l'altro l'ho disboscato tutto cazzo prima era così bello c'era di tutto va comunque l'acqua del fiume mi sa che è arrivata qua sopra cadendo i danni ora iniziamo a divertirci con questo primo strappo lo dobbiamo ripetere 5 volte ad andatura media devo dire che dovremmo capire l'andatura media semplice in base alla velocità non so quanto andare per cui questa qua 5 volte pennezza media buca 14 15 il punto è che qua si scivola quindi non puoi sgasare devi andare su argile e tranquilla perché se scatti slitti anche avendo i pneumatici che ho io sono invernali slitti lo stesso uno e ora si scende giù cercando di non scivolare non farsi investire andiamo a entrare qua dentro voilà abbiamo fatto mi sono fermato perché sei stata una pozza di fango lungo le ripetute sono al numero 3 adesso e mi è tratta una goccia di fango nell'occhio adesso mi viene cataratta e caratevare che non c'ho sbatti di rimanere fermo sentivo proprio la stabia nell'occhio se smette di piovere tolgo tutto era già caldo adesso lascio vedere la pozza di merda che mi ha beccato nell'occhio va bene muoviamoci qua questa pozza di merda ora si va giù di qua e poi si risale tutto prima volta a piano la seconda è la meglio a parte qui abbiamo una pendenza del 4% saremo su 20 all'ora tranquilli adesso 5% per poi riscendere e risalire forte fino al tornante per una tornata riposo e ora scendiamo giù ce l'abbiamo fatta ora va bene per un chiotro e mezzo e si va a fare discesa e poi si ripetuta e poi cala mi sono fermato un attimo per togliere l'impermeabile questa l'ha fatta ragazzi a bezza di 10 volte ovviamente qua la precedenza te la non neanche se paghi che cazzo era? 10 volte questo mostriciattolo qua arriva in cima con una pendenza massima dell'8.5 media del 5 sono le 6.49 vediamo quanto ci mette siamo alla numero 4 numero 8 ed è arrivato il pullman per cui mi fermo qua cara mi ha salutato mi ha salutato 9 ultima e si da casa ora ora siamo a casa ora siamo a casa ora siamo a casa siamo a casa siamo a casa siamo a casa spero che a via vi sia piaciuto mettete like iscrivetevi A vero, sai tu, ciao